Ciao a tutti, sono Alessandro Longo e Daniele Stella, top 16, Alessandro, e in top 8 Daniele. Siamo giocati Zodiac, hanno giocato la stessa lista, quindi facciamo un deck profile per i bambini. Allora, cominciamo da Alessandro, qual'era la tua scuola in Suisse? Ho fatto 9 vini, 1 vene e 1 vene, e perciò, e perciò, in top 6, allo entro, allo entro in front 9, in semi. E l'ho? Ho fatto 9 vene, e perciò, e perciò, e perciò, allo entro, allo entro, allo entro, allo entro. In top 8 contro il Pilgrim Ok, inizia con il Mast Rimormorite Mast 3 Vittade E Uno di questi Perché Mast Perché Con il Mast Combo non hai bisogno di questo Perché Se hai bisogno di questo Non puoi riciclare Per Broadboot Quindi hai bisogno solo uno Penso che in Green Game Non hai bisogno di un secondo? No, perché Ora il deck è È È Focuso su FTK Ok 3 di questi Uno di questi Uno di questi Uno di questi Per il Combo Per il Combo Poi 8 Entraps 8 Entraps Perché 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 In questo Formato Troll Dice È Molto importante Quindi Se Poi Se 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 perché alcuni di loro non sono davvero bene contro altri metadecchi c'è solo un metadecch e questo è solo il metadecch ok il popolo è solo il metadecch succede a volte per creare 5 o 4 entrappi non, mai mai? la migliore 20 monstri uno di questi briccard la migliore Fretto in Twister perché c'erano tantissimi paliozoic nel match mirror c'erano una sola c'erano tre tempi tre tempi tre tempi e il primo bar il primo bar e il primo bar e il tocco del giorno la prima non è Ok, esprimi questa carta, perchè è una carta particolare Perché è così... Sono due start Due more start Quindi pensi che sia Hollywood E se hai 5 monstri In campo, puoi dichiarare Max G Ok, l'opera deve aggiungere E pensi che sia buono solo In turn zero? O se inizierai seconda? No, inizierai seconda Non il mio corpo e il calice Perché? Perché? Perché giochiamo 8 e 10 calice Quindi pensi che sia la stessa? Si Un'un di questi Devono Un'ultimo calice Un'ultimo calice Un'ultimo calice Un'ultimo calice Ok, è compagno Non c'è Un'ultimo calice Non c'è Un'ultimo il calice Nelanmo calice Se inizieraisi un calice Un'ultimo calice da 1 al 10, quant'è stato forte? 0 0? 7 7 7, ok 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 13 perchè con il combo usamo un totembird con lullabies un invoker per il combo uno di questi per 3d uno castello questo non è master ma è buono uno di questi per il combo 4d 3d best card contro il paleozoico come vincere 3cosmica è buona contro il paleozoico il match mirror e l'eidolon e la città 3d 3d come vincere contro l'infernoide 3d 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 4d 3d 3d 4d 4d 5d 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 6d 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 5d 6d 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 7d 7d 7d